però il precisetti adesso cosa fa utilizzerà il metro perché se non è in bolla come dice lui smonta tutto rifà tutto da capo come si evince dal simbolo sul tappo buongiorno ragazzi e benvenuti a questo nuovo video siamo a fine marzo fa un caldo esagerato ma sono davvero molto felice per questo perché quando arriva la bella stagione tra l'altro siamo a cavallo del weekend quindi sabato con domenica l'ultimo weekend del mese di marzo quindi ci sarà il cambio dell'ora quindi da domani ci sarà un'ora in più e queste sono piccole cose ma che per me fanno davvero tanto la differenza mi danno gioia sorriso allegria e tanta 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 voglia di fare nel camper su max oggi abbiamo 30 quasi 31 gradi oggi allo blu aperto perché davvero si sta soffocando ma la cosa interessante è che sono fuori dalla tenuta visconti ovvero a casa del precisetti e fra poco vi mostreremo un upgrade sul suo camper stai lì niente non mi ha risposto ma il precisetti ha capito che sono arrivato per cui mi ha aperto il cancello si va si va mi mancavano questi pomeriggi di monta e smonta fai da te a casa visconti tessoro ci sei tessoro ah ma allora oggi siamo al completo precisetti vice precisetti il capo dei capi di precisetti nonché papà mario nonno mario eccoci nel regno del fai da te del precisetti mi mancava tutto questo quindi rena oggi cosa si fa ti vedo già in alta uniforme cosa facciamo oggi montiamo un bel docino esterno che mi servirà per lavare il cane per le docce esterne cosa facciamo cosa fa si può fare quindi abbiamo già tutti gli accessori adesso vi spiego allora questa è la presa che andrà montata all'esterno del camper con l'attacco per questo doccino scusate il mento ma devo prendere aperto il doccino si applica in questo modo tac acqua calda acqua fredda tra l'altro esattamente da una parte è spento da una parte a mano a mano che lo spostiamo l'acqua diventa sempre più calda qua poi abbiamo per il suo prolunghetta una volta regolata la temperatura spigiate questo pulsante e vi lavate i piedi doccia tra l'altro col caldo che sta facendo già adesso l'ideale no poi l'ho fatto anche per lavare il cane ma infatti bravo per gli amici a quattro zampe eccezionale questo sistema esterno allora dicevamo l'occorrente è questa presa da fissare sulla fiancata nel mezzo dove si attaccherà appunto il doccino come ho fatto vedere prima chiusa la sua guarnizione di tenuta e la sua guarnizione posteriore io per scrupolo metto anche un po di silicone qua attorno che non gli fa male di certo tubo acqua fredda tubo acqua calda diametro 12 solitamente qua metterò due rubinettini in maniera che dall'interno del camper i rubinettini sono questi dall'interno del camper io andrò a chiudere la linea che porta alla presa esterna nel momento in cui non mi interessa utilizzarla periodo invernale per esempio quando il camper è rimessato insomma la sicurezza in più che volevo mettere sono tutti i nesti rapidi quindi molto semplici non serve ben poco semplicemente io anziché tagliarli con la forbice che li schiacciate c'è questo bellissimo utensile che è quello che usano gli elettricisti per tagliare i tubi di plastica che avendo questa parte curva e questa parte che scende a ghigliottina li tagli in maniera penso che perfetta con la forbice li andate a schiacciare poi dovete ridargli un po la forma e tutto il resto cosa più importante allora questo impianto è così semplice farlo per chi ha il mezzo munito di una pompa esterna vi spiego meglio dovete verificare che sul vostro mezzo non avete i classici micro interruttori che si vanno ad azionare quando aprite il micelatore e di conseguenza vanno azionare la pompa immersione che sia o di diverso tipo nel mio mezzo invece la pompa è a depressione cosa significa che non ho nessun micro interruttore su nessun rubinetto semplicemente quando la pompa non sente più la contropressione del rubinetto chiuso va ad azionarsi a ripristinare la pressione corretta nell'impianto quindi per assurdo se vuoi bucato un tubo la pompa si aziona in automatico e continua a rimanere in funzione finché la pressione non ritorna come prima essendoci un tubo non tornerà mai rimarrà in funzione fino a svuotarvi il serbatoio questa è una premessa perché chi non ha questo tipo di impianto si può fare lo stesso ma bisogna inventarsi qualcosa perché lo consigliano solo appunto per questa tipologia per l'altra tipologia dovesse tirarvi all'esterno un piccolo joystick con un micro interruttore per andare azionare la pompa tutto qua se no non riuscite ad avere il risultato andiamo a operare vediamo due misure facciamo un piccolo foro pilota vediamo dove usciamo abbiamo fatto quattro misure noi andremo a installare i raccordi qua se volete vedere partiamo con l'attrezzatura pesante trafani allora qua abbiamo i due tubi dell'acqua vedete calda e fredda qua andremo a metterci due ti che andranno a finire sulla fiancata del mezzo qua interporrò due rubinettini per andare a chiudere la linea che va sulla fiancata del mezzo quando non mi serve mi sento più sicuro adesso dobbiamo andare a bucare la abbiamo già fatto le misure so già che esco all'esterno in una zona dove non ci sono problemi verificatelo mi raccomando e fate prima sempre un foro pilota non subito con la tazza da 60 che è il foro richiesto poi per l'installazione definitiva cominciamo stiamo più a destra possibile quindi siamo già usciti con la punta purtroppo all'interno per problemi di spazio non ho potuto fare una clip appunto dettagliata già così rende l'idea sicuramente andrà allargato attiglieria ancora più pesante e qua come si suol dire non si torna più indietro bene abbiamo preparato i due raccordi come potete immaginare qua ho collegato il tubo che andremo a tagliare della calda qua va tagliato il tubo della fredda lo andremo a ricollegare qua a rubinetti chiusi da qua non esce nulla rubinetti aperti vi porta all'attacco esterno quindi io per il momento li metterò con i rubinetti chiusi direi che è perfetto però al precisetti adesso cosa fa utilizzerà il metro perché se non è in bolla come dice lui smonta tutto rifà tutto da capo 13 e mezzo preciso 13 e mezzo siamo passati all'interno consiglio disattivate chiaramente la pompa dell'acqua e poi in ogni caso con la pompa disattivata aprite il miscelatore vedete che un po' piscia questa è tutta acqua che comunque non vi trovate appena tagliati i tubi in giro per il pensile quindi fate uscire finché esce questa è stata accettata questa è accerta abbiamo recuperato l'acqua che è uscita e poi chiaramente clean clean tutto bello pulito asciutto vediamo quanto sono lunghi questi ma questi entrano fino a qua tagliar via tanto così questa parte adesso allora la prima prova da fare è lasciate i rubinettini che avete messo chiusi quelli blu per capirci accendete la pompa chiaramente lei parte in carica chiude il miscelatore e verificate che non ci siano perdite toccate bene con le manine ogni giunto che avete fatto perdite non ce n'è dobbiamo toccarci quelli in fondo eccoci giunti a termine questo è la accessorio per quando dovete utilizzarlo aprite il tappo lo inserite a una posizione alla baionetta inserite così è tutta chiusa così la aprite mano mano che vi spostate in qua come potete vedere come si evince dal simbolo sul tappo in azzurro non mi fa ridere anche prende anche in giro sulla terminologia come si evince il precisetto come si evince dicevamo da qua da spento freddo 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 fino andare al caldo quindi miscelate dopodiché avete questo simpatico pulsantino che fa così nelle stagioni calde si può fare così come poi tutto avete potuto constatare il lavoro è molto semplice è tutto ad attacco rapido dovete superare un po diciamo il trauma di buffare un bel foro da 60 sul fianco del vostro mezzo ma se è ben fatto ben sigillato non ci sono problemi anche perché ne abbiamo tanti di tappi quello dei chiare domanda mi inquadro anch'io ma questo upgrade sul tuo mezzo spettacolare l'hai fatto specialmente per mi dicevi prima che hai un amico a quattro zampe l'ho fatto come diciamo punto per il lavaggio della mia cagnolina quando magari tornando alla spiaggia tutta bella sporca di sabbia tutto il resto voi siete molto playeri in spagna esatto quindi sabbia quelle comodissime o anche perché no quando arrivate voi dalla spiaggia dove non ci sono le docce o perché siete libera per qualsiasi motivo chiaramente senza usare saponi o saponi bio se no vi sgridano potete farvi anche la vostra bella docina bella sciacquata tiepida fredda come come più vi agrada come al solito lavoro un po invasivo in questo caso perché comunque c'è da fare un bel foro sulla parete del campo millimetri sì però va bene se fatto a regola d'arte come sai fare tu non ci sono problemi poi ci sarà da fare giusto un piccolo la piccola piccola siliconata si per sicurezza per sicurezza che verrà fatta in un secondo momento costi cosa ci vuole fare il tit completo di tappo esterno chiamiamolo così anzi no attacco esterno con il doccino e il suo miscelatore siete intorno ai 90 euro dopo di chi avete bisogno di due pezzi di tubo tubo standard a camper per la calda e per la fredda quindi azzurro e rosso siete a 2 euro al metro li dipende dove dovete andare a rinestarvi voi avete bisogno di quei due t neri per fare la derivazione costano 10 euro la coppia e infine io ho voluto mettere due rubinettini costano 5 euro quindi facciamo due conti sono 20 euro di minuteria diciamo 30 euro di minuteria con i tubi diciamo e 90 euro sui 120 euro se vi arrangiate avete un doccino esterno comodissime e noi come sempre vogliamo ringraziare andrea dlc camper ciria torino che ci ha fornito il materiale per realizzare questo lavoro e anche questa volta un bel like iscriviti al canale una bella campanella e ci vediamo al prossimo video ciao